Maria, stella della speranza. La comunità di Torre del Greco si prepara a vivere la festa dell'Immacolata quest'anno in un clima inedito per le restrizioni legate al Covid. Abbiamo proprio bisogno di questa virtù teologale della speranza perché la speranza riguarda il nostro rapporto con il Signore. E questo trono che noi abbiamo pensato e preparato con il progetto e l'esecuzione di Riccardo Lamberti si ispira a questa espressione che usa Papa Benedetto in una lettera che lui inviò a tutta la Chiesa sulla speranza. Spe salvi, la speranza ci salva. La Madonna ci aiuta a guardare in alto nel buio della vita però lei risplende, come dice poi anche la Messa, segno di consolazione e di sicura speranza. Nella lunga intervista ai microfoni di TV City il parroco della Basilica Pontificia di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, illustra il programma delle celebrazioni da sabato 5 a mercoledì 9 e spiega come venerare l'Immacolata rispettando le regole ed evitando assembramenti. Abbiamo dei giorni clou che non è solo l'8 dicembre ma il 6 essendo domenica, 7, 8 e ho pensato anche al giorno dopo l'Immacolata il 9 dicembre. Ecco, in questi giorni per partecipare alla Messa bisogna necessariamente prenotarsi. Per quale motivo? Perché in Basilica abbiamo 180 posti a sedere e ogni posto è segnato da un segnaposto di color verde. Ti puoi sedere qui, dice quel segnaposto. Per poter venerare l'Immacolata c'è un ingresso autonomo. Ci entra per la Messa, entra per la porta accanto alla Sagrestia, guardando la Basilica sarebbe la porta a destra. Va bene? Ci vuole solo venerare l'Immacolata, entra per la porta sinistra, sarebbe la porta della navata della Cappella del Santissimo. C'è la possibilità di fermarsi qualche momento davanti al carro, davanti al trono quest'anno, senza fare assembramenti e poi uscire. E questo sarà fatto in maniera continuativa. Abbiamo sabato pomeriggio la Messa delle 17 e 30 su prenotazione. Nei giorni club, previste messe ogni due ore su prenotazione, presso la Segreteria della Basilica. Domenica 6 su prenotazione, secondo l'orario festivo, 8 e 30, 10 e 30, 12. Al pomeriggio c'è anche una celebrazione, alle 16 domenica su prenotazione e alle 17 e 30. lunedì 7. Ci saranno tre celebrazioni al mattino, senza prenotazione, 7 e 30, 9 e 30, 11. Non mancheranno le celebrazioni per i portatori. Lunedì 7, dopo la Messa delle 13, seguirà l'atto di affidamento alla Madonna alle 14, ora della tradizionale girata del carro. Abbiamo pensato per il giorno 7 a due momenti per i portatori. Un primo momento, la celebrazione della Santa Messa alle ore 13. Per terminarla alle 14, quando c'era la tradizionale girata del carro, alle 14 al suono delle campane faremo l'atto di affidamento alla Madonna e la benedizione solenne. Se ci dovessero essere altre prenotazioni, alle 16 facciamo la stessa celebrazione, a sera alle 17 e 30 e alle 20. Giorno 7, ininterrottamente, dalle 7 e mezzo del mattino fino alle 21 e 30, 21 e 30, perché alle 22 bisogna stare a casa, fino alle 21 e 30 sarà possibile venerare l'Immacolata, evitando assembramenti anche fuori della Basilica. Giorno 8, celebriamo le Messe ogni due ore, a partire dalle 6 del mattino, quindi alle 6, alle 8, alle 10, alle 12, alle 14, alle 16, alle 18 e alle 20. Il 9 mattina celebriamo tre messe, 7 e 30, 9 e 30 e 11 e così al pomeriggio, alle 17 e 30 e alle 20. Resterà esposta solennemente così in Basilica sino all'11 febbraio, quando è l'anniversario delle apparizioni della Madonna all'Urd. La speranza ci salva, ha sottolineato Don Giosuè. Quest'anno vivremo la festa in un clima di maggiore raccoglimento e sobrietà. La Madonna, in modo particolare quest'anno, vuole prenderci per mano come una mamma e portarci a Gesù, perché la nostra speranza non è un'idea, un'ideologia, un pio sentimento. Oh, vicina, vicina all'ottimismo. No, la nostra speranza è una persona, è Gesù. La festa di quest'anno si pone in questa dimensione di maggiore raccoglimento, se volete di maggiore sobrietà. Ecco, anche il mio appello, non moltiplichiamo i fiori. Come vedete, in Basilica, i fiori non mancano. Basta anche l'omaggio di un fiore, di una rosa alla Madonna, ma trasformiamo i fiori in viveri, in soccorso alle persone bisognose, quelli che stanno proprio in difficoltà.